Quello del 1 e 2 maggio sarà un fine settimana di intenso lavoro che potrebbe dare una buona accelerata alla campagna vaccinale. Sabato e domenica al via gli Open Day e gli Open Week dedicati alla vaccinazione degli over 80 e della fascia di età 60-79 anni non ancora iscritti nella piattaforma. L'ASL e il Comune hanno organizzato delle giornate straordinarie di vaccinazioni per il fine settimana il 1 maggio con un Open Day al centro sociale a Pastena per somministrare la vaccinazione agli over 80 non ancora iscritti in piattaforma. Il 1 maggio dunque il punto vaccinazioni di Pastena sarà aperto ininterrottamente dalle 8 alle 20 per consentirne la vaccinazione. Il 1 e 2 maggio tutto pronto anche per l'Open Week al centro vaccinazioni di Matierno e in altre sedi distrettuali della provincia di Salerno per incrementare le vaccinazioni della fascia di età 60-79 anni. L'ASL di Salerno confida nella collaborazione dei medici di medicina generale e dei farmacisti del territorio per favorire l'accesso alla piattaforma di tutti i soggetti impossibilitati a provvedere autonomamente alla registrazione. Così ai nostri microfoni il dottore Arcangelo Saggese Tozzi, referente dell'attività Covid dell'ASL di Salerno. Sì, anche grazie all'aumento di forniture che abbiamo avuto in questa settimana siamo in grado di dare un'accelerata alla somministrazione di dosi. Sabato e domenica faremo due iniziative parallele. Sabato cerchiamo di recuperare le persone over 80 che non sono iscritte in piattaforma. Aprendo la vaccinazione a Salerno, al centro sociale Pastena, ma in tutti i distretti ci sarà almeno un punto vaccinale aperto alle persone over 80 anche non inserite in piattaforma. Saranno iscritti direttamente presso il centro vaccinale. Queste persone possono essere aiutate anche prima di sabato perché se vengono aiutate a iscriversi tramite il segretariato sociale dei comuni, tramite le farmacie, tramite i medici di base si faciliterà il lavoro dei vaccinatori. Però non sarà indispensabile, anche se si presentano direttamente presso i centri vaccinali. Primo maggio, over 80, dobbiamo recuperare la popolazione over 80, circa 11.000, 10-11.000 nella provincia di Salerno e che non si sono iscritti in piattaforma. Discorso diverso per gli over 60-79. Questa fascia di età domenica cosa potrà fare? Discorso diverso, legato sempre alla disponibilità di vaccini che abbiamo in questo momento. Apriamo due giorni di, o per week più che over day, di vaccinazione 60-79. Persone che devono però essere già iscritte in piattaforma possono, anche se non convocate, recarse presso i centri vaccinali dedicati. A Salerno sarà a Matierno, ce ne sarà almeno uno per ogni distretto, come è stato fatto già in altri distretti dell'Asa, si devono regare in queste strutture e avranno la vaccinazione a partire dalle classi di età da 79 a scendere fino a 60 anni.